E' finita gli arresti domiciliari Francesco Ferrandino, 40 anni di Ischia, è l'autore dei gravi fatti di cronaca accaduti a Dischia Ponte nella notte di domenica 26 aprile. Francesco Ferrandino fra le 2 e le 5 si è impossessato di un furgoncino Ape Piagge e di un autocarro Peugeot e li ha buttati in mare dal molo di attracco di piazzale aragonese a Dischia Ponte. Successivamente tra le 5 e mezza e le 6 utilizzando un accendino e dei sacchi della spazzatura ha provveduto ad incendiare un'autovettura Fiat 500 e di un autocarro Piaggio Ape utilizzato da un commerciante di Dischia Ponte per esporre la propria merce. Entrambi i veicoli erano parcheggiati in via Luigi Mazzella sempre a Dischia Ponte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Ischia guidati dal capitano Centrella e gli uomini del circo mare Ischia con il comandante Muscatiello. Subito sono scattate le indagini. I carabinieri hanno individuato Francesco Ferrandino visionando le immagini delle telecamere della videosorveglianza in uso ad alcuni esercizi commerciali di Dischia Ponte. Una successiva perquisizione domiciliare consentiva poi agli uomini dell'arma di rinvenire presso la sua abitazione gli stessi abiti immortalati dalle telecamere. Per Francesco Ferrandino è scattato l'arresto. A suo carico ci sono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di ricettazione, danneggiamento e danneggiamento a seguito di incendio. Francesco Ferrandino è già noto alle forze dell'ordine per il suo vizio di alzare il gomito e dare in escandescenze. Lo scorso anno, l'11 maggio 2014, aggredì alcuni giovani con una katana alla spada giapponese. Fu arrestato e tradotto al carcere di Poggio Reale con l'accusa di possesso di armi impropie e tentato omicidio. Il giudice per lui dispose la misura degli arresti domiciliari. Successivamente, il 14 novembre del 2014, il Tribunale sostituì la misura degli arresti domiciliari che il Ferrandino stava scontando presso l'abitazione della madre in località Casa Lauro con quella meno gravosa dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Ora per lui sono di nuovo scattati gli arresti domiciliari. Lunghe e difficili sono state le operazioni di recupero dei veicoli gettati in mare. Sul posto i vigili del fuoco, gli uomini del circo Maredischia ed anche quattro sommozzatori a tentare il recupero. Il primo mezzo a essere estratto dall'acqua è stato il furgoncino che è stato poi riconsegnato al suo proprietario. Poi si è passati al recupero dell'autocarro Peugeot. Il mezzo è stato prima portato in superficie con l'utilizzo di palloni di sollevamento e poi è stato sul pontile con l'aiuto di una grossa.